Breve video, allora, dopo la botta di ieri sera, che l'abbiamo fatto male assai alla Lotta Italia, ma l'abbiamo fatto tanto male alla Lotta Italia, ma tanto assai, io vi dico come Ambo principale teniamo in gioco solo l'altro Ambo, cioè, nell'ultimo minuto erano due Ambi e la Quartina, abbiamo vinto l'Ambo secco, spaccato a mezzo colpo, più l'Ambo in Quartina, minchia quanti lottologi ragazzi gli sta rodendo il culo, minchia se gli brucia, allora io a voi previsionisti, lottologi, chiamatemi come cazzarola volete, vi consiglio Malox, per i bruciori di Ano, perché voglio essere educato, perché prima ho detto culo, ma il culo è l'ano, Per i bruciori di Ano, vi consiglio Malox, anche per lo stomaco, perché state, alcuni di voi stanno, e sta rodendo il fegato, e allora io mi chiedo, Malox è la situazione adatta? Mi raccomando, non vi fate rodere e sedere, perché poi tra l'altro molti di questi previsionisti, perché il lottologo non esiste, questo vocabolo lottologo, chi l'ha inventato? Il lottologo, ma non esiste la parola lottologo, quando io sento lottologi, lottologo, a parte che io mi definisco un appassionato di lotto, che è diverso, Previsionista ci sta, sono un previsionista, sì, più di 28 anni che faccio lotto, ma l'ottologo, che cazzo di termine è? Porca puttela! Allora, voglio dire alcuni di questi fantomatici previsionisti, Malox è perfetto per voi, ma poi vorrei dire, ma non avete notato, voi non l'ammettereste mai, che vi stanno calando gli abbonamenti mensili? Ma non avete notato che molta gente, dopo due o tre mesi che ha abbonata con voi, non riesce a fare neanche un'ambata in posizione, a volte un ambetto scarso, e quindi scappa via? Certo, siete fortunate, alcuni di voi, io non parlo con tutti, eh ragazzi, attenzione, eh, io so con chi sto parlando, e loro sanno secondo me, perché verranno colpiti e risponderanno in automatico, Ma sicuramente queste persone sanno che io so, e quindi, eh, automaticamente siete fortunati perché molte persone escono, ma molte entrano nuove, quindi più o meno avete un riscontro di parità, ma a volte perché fate promozioni per due mesi, dicendo, ah, promozione, eh, due mesi in uno, pagate un mese, ma state con noi due mesi, grazie a cazzo, Non state a fare più niente, non state a fare più niente, eh, state andando così, guarda, 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 è Mimmo Nazionale, ancora abbonamenti non ne sta facendo perché è un pirla, perché io sono anche pirla, perché è vero che faccio tutto gratis, il tempo non me lo paga nessuno, Ma prima o poi, a parte che tutti quelli che mi seguono sanno che prima o poi, con una cifra simbolica di 5 euro al mese, 5 euro al mese, io farò qualcosa per tutti, riscontrando almeno un 5 euro a testa al mese a me, per quello che faccio, ma ad oggi tutto gratis, niente abbonamenti, niente previsioni comprate, Con Mimmo Nazionale si vince gratis, ieri sera è un'altra strage, giovedì abbiamo vinto, venerdì abbiamo vinto, ma ieri sera è stato il boom del boom del boom, però prima o poi Mimmo farà pagare una cifra simbolica, io lo dico proprio pubblicamente, 5 euro al mese, non so quando, se con l'anno nuovo, ormai da mesi che lo dico, non lo faccio mai, evidentemente alla gente piace vincere facile, con Mimmo Nazionale, E molti di voi previsionisti, giustamente devono fare 2-3 mesi di promozione, al prezzo di un mese, passate con noi due mesi, però la gente giustamente scappa perché evidentemente non fa un cazzo, gruppo abbonati, gruppo abbonati, poco e niente, ma alla fine, forse conviene Mimmo Nazionale e pochi altri? Io, sottolineo in questa live, questo video che poi non è una live, stimo e ammiro, e sottolineo, stimo e ammiro il mio amico Gianchi, stimo e ammiro Valentina Colaceci che so che sta collaborando anche con Gianchi, bravissimi, insieme hanno fatto una grande vincita di recente, Non vado oltre, ne conosco tanti, anche previsionisti giovani in gamba che hanno collaborato con me e loro sanno di chi parlo, ok? Detto ciò, per concludere, a Torino rimane in gioco Lambo al secondo colpo martedì sera 24 ottobre 38-49, Torino si gioca 38-49, Ambo e Ambetto, mi raccomando, questo non è un ultimo minuto, è un'informazione utile, chiamiamola così, Ricordatevi che con Mimmo Nazionale, non vado oltre, chi mi conosce, mi segue, chi non mi conosce, non mi vuole conoscere, che mi evitasse? Ricordatevi sempre che Mimmo Nazionale non vi chiede un euro, vi chiede la foto degli scontrini vincenti, proprio per questo vorrei salutare un mio carissimo amico virtuale, Vincenzo Laguardia, Ciao Vincenzo Laguardia, lui sa perché mi scrive, mi segue, ha scritto un commento che ha ragione, anche io non credo a questa gente che mi dice che non può mandare la foto dello scontrino, non vi credo ragazze, donne, uomini, non vi credo perché una foto di un cazzo di scontrino, anche se dal tabaccaio, la si fa e poi si incassa, perché l'egoismo a casa di Mimmo Nazionale non esiste, la foto io la esigo, dopodiché potete fare quello che volete, incassate, ma prima la foto e poi incassate, anche perché dopo questo Ambo di Torino che da martedì al secondo colpo 38-49 a Torino Ambo Ambetto, recupero nazionale e facoltativo nazionale tutte, ve lo dico sempre, io, l'avevo già detta, sta cosa e non l'ho ancora fatta, darò l'Ambo su Whatsapp la prossima volta, ma a tutti coloro che poi mi inviaranno lo scontrino, perché se su Whatsapp io vi do l'Ambo o i due Ambi e non mi mandate lo scontrino, verrete bloccati, semplice no? Semplicissimo. Va bene ragazzi, era un mini video di 6-7 minuti, quanto siamo? 7 minuti, perfetto, vi mando un abbraccio immenso, buona domenica sera, domani è lunedì, io oggi ho già postato il video delle vincite fatte con me e poi infatti in coda alle vincite, se fate caso, ci sono anche l'accodamento delle vincite precedenti che non avevo pubblicato, io le pubblico tutte e poi le cancello dalla galleria e non ripubblico le stesse vincite come fanno molti lottologi, che poi, molti lottologi ancora con sta parola che poi non esiste, molti previsionisti usano le stesse scontrini per i vari video che faranno, invece no, Mimbo nazionale cancella dalla galleria quelli che mette pubblicamente, poco fa l'ho fatto il video, e l'ho cancellati, adesso, dopo questi centinaia di scontrini, io adesso domani riaccenderò Whatsapp e scaricherò quelli che voi mi mandate di sabato sera, mi raccomando, continuate a mandarmi gli scontrini vincenti, intere, foto intere degli scontrini, ok? Ragazzi, adesso mi faccio, sapete cosa mi faccio? Un buon limoncello, anzi, due limoncelli, vaffanculo, crepi l'avarizia, due limoncelli, mi guardo un po' di tv, e poi nanna, perché domani mattina alle 6.15, 6.20, suono la sveglia. Un besos a todos! Ciao!